video in diretta attenzione attenzione siamo in diretta su stigliatori si preparano e tra tutto ci teniamo su noi e noi ci teniamo su materiali 4 schiitoni sia cosa 4 5 schiitonare sa e noi abbiamo beccato sa bello su trudi ceddo su e bello sa cosci cedda di gravi tu la cosa bella bravo per luci e stiglia la stiglia la villa vello stiglia tutto una cosa bella colomba ci sapete si vuole questa è la sardegna vicio a cubello su e scontinentali si vegetarianoso carne sarda dedicato su saluto papai arrega la nostra posta pezza papai è più lenta è più lenta e chi è lenta mera la sedda lenta e noi mangiamo volatili volatili belli alla sardegna e roba sana aio questo caso roba a due piedi a due piedi la aio tocca così vi cantavo pastoresi fa niente ne sappiamo sappiamo parlare anche l'italiano ci vuoti problemi la la come ti stiglierà questa festa su stiglierò in mascherà o queste stiglierà la castiglia la commenti si tu stiglierà o bene la commenti di andara su stiglierà e stiglierò bene e come si dice sardegna e tavarre stiglierà e che sapori avranno queste cosce allora vi salutiamo compagno dei schidoni queste cose e queste cosce non puoi tornare di visione su vita non si c'è mai mancate più prezzi puro aio sicuri è la che facendo subito aio scattare ecco